Veramente in tanti mi fate sempre la stessa domanda. Perché continuo ad attrarre partner tossici, narcisisti patologici oppure abusanti? Perché incontro sempre persone che nella mia vita invece di darmi qualcosa continuano a togliermi? E per quale motivo se all'inizio sembrano tutte persone pronte ad amarmi, piano piano mi rendo conto che sono l'unico a fare fatica per avere un rapporto consolidato. Quando questo accade la domanda giusta non è perché io attraggo loro ma è completamente un'altra. Dovete sapere che abbiamo tutti le stesse opportunità di incontrare persone probabilmente o possibilmente tossiche. Sì esattamente tutti alla stessa maniera perché così come le incontrate voi, come le ho incontrate io, queste persone sono in giro insieme a noi, fanno parte di un nostro modo di vivere, di una nuova società, camminano per strada in mezzo a noi, lavorano insieme a noi, si relazionano con noi nei social network e quindi ovviamente sono parte del nostro vivere. Proprio per questa integrazione di queste persone altamente tossiche, che purtroppo sembrano essere sempre di più, non è vero che siete voi ad attrarli ma loro attraggono e sono attratti esattamente da tutti alla stessa maniera. Ma quindi dove sta il gap? Dov'è il problema? Perché tu, proprio tu, hai sempre persone tossiche accanto? Perché la tua amica invece le persone tossiche accanto non le ha? Per una sua acutezza o meglio ancora, per la sua capacità di difendere se stessa. Quindi, da cosa dipende il fatto che abbiamo accanto, che tu abbia accanto persone tossiche e che tu debba vivere relazioni tossiche? Non dal fatto che tu attragga queste persone, ma dal fatto che tu tenga accanto a te queste persone a lungo. Questo che cosa significa? Prova a ragionare. Quando tu trovi una persona, incontri una persona, all'inizio tendenzialmente questa persona dà il meglio di sé e tu, da persona empatica, tendenzialmente se ti viene fatto un regalo, gliene fai due. Se invece ti viene fatto un mazzo di fiori, tu regali una pianta. Se tu ricevi un profumo, tu gli regalerai quattro profumi, perché se è una persona empatica e di conseguenza inizi a dare. Questo è il campanello d'allarme per la persona tossica, per aver chiaro, chi ha riconosciuto, la persona empatica. Perché? Che cosa succede invece se una persona è normale, tra virgolette, usiamo le mie classiche virgolette. Quando una persona non è iper-empatico, troppo empatica, che cosa fa? Quando una persona vive serenamente la sua esperienza di vita e riceve un mazzo di fiori, ringrazia e magari il giorno dopo, con tutta la calma del mondo, regala un biglietto del cinema. Invece la persona empatica e soprattutto la persona iper-empatica regalerà una pianta. Questo perché? Perché la persona empatica, di base, fateci caso, si sente quasi sempre un pochino in colpa, se è dipendente affettiva, di ricevere. E quindi deve dare, deve dare con la certezza che l'altro sia perfettamente a suo agio, che non si senta sfruttato, proprio perché la sua paura, il suo timore, è proprio essere così, sfruttato. Il dipendente affettivo, iper-empatico, stiamo parlando di quello, tendenzialmente teme di essere sfruttato. E quindi dà, dà per poi ricevere in cambio qualcosa come prova del fatto che è stato visto quello che ha fatto. Invece dall'altra parte che abbiamo, abbiamo una persona tossica che appena si rende conto che al momento in cui voi gli hai regalato un fiore, riceve una pianta, quasi quasi, fateci caso, ringrazia come se fosse stato semplicemente regalato un fiore, come se fosse un dow des, semplice semplice. Io ho ricevuto una pianta dopo che tu hai ricevuto un fiore. Non dice un grazie acceso, ma lo dice quasi sempre come se fosse, ok, grazie. O addirittura ringrazia, ma non ti dà la soddisfazione di dire, wow, ma che bella questa pianta, ma non dovevi farlo. La prende e basta, ok? Magari ringrazia, ma non lo fa notare. È lì, passivo. Tendenzialmente questo è base delle persone covert o delle persone che comunque non si manifestano subito e sono molto acute. Quindi, tornando alla domanda precedente, una persona normale senza nessun tipo di problema, dal punto di vista della sua autostima e quindi un empatico che sta bene con se stesso, nota subito questa cosa. Quando nota questa cosa, aspetta. E quello che succederà poi dalla persona tossica sarà eventualmente offrire una cena. Quando l'empatico, dopo la cena, offrirà un weekend e si sentirà dire grazie, smetterà di fare regali più importanti e osserverà il suo interlocutore. Io ho utilizzato una metafora, quella dei regali, ma in realtà si parla di tutto in questa maniera. La persona è empatica, semplicemente che sta bene con se stessa, che è in equilibrio con se stessa, che si riconosce come valore di persona. Al momento in cui si trova una persona che potrebbe essere, diciamo, un approfittatore, o un manipolatore, o peggio ancora, un narcisista patologico perverso, fiuta nell'aria il disequilibrio, la bilancia che cade verso la parte dell'altro. Se ne rende conto. Poi, magari sta lì e sta a guardare, ma dopo qualche tempo inizia ad allontanarsi, a staccarsi, a capire, proprio perché empaticamente si rende conto che dall'altra parte ha un senso di vuoto. Ma che cosa succede invece all'iperempatico, pardon, che ha una dipendenza affettiva, biochimica, emozionale, o mancanza d'autostima in se stesso, che quasi sempre è la motivazione per cui si rimane nelle relazioni tossiche, cioè la mancanza di autostima. Che cosa succede a questa persona? Perché questa persona resta lì? Resta lì perché teme di non avere di meglio, teme di non essere all'altezza, teme per se stesso di non riuscire a trovare qualcosa di simile ma migliore, teme di non essere abbastanza per l'altro, incomincia a svalutarsi da solo. Quando? Quando l'altro, quando ringrazia e basta per una pianta, lo fa sentire quasi scontato. A quel punto questa persona che non ha consapevolezza di sé, che cosa fa? Invece che una pianta ne regalerà due. Invece che una cena regalerà tre weekend, o comprerà o farà cose o farà azioni, o si metterà in condizioni di frustrarsi per l'altro, in maniera completamente consapevole, perché l'altro si renda conto e veda quanto è speciale, quanto è bravo, quanto è in gamba e lo riconosca. E che cosa succede quando l'altro, proprio perché è un tossico, è cattivo e magari è sadico e non riesce ad amare come vorrebbe essere amato l'empatico, quando magari ha un atteggiamento evitante, quindi non si accorge nemmeno di quello che viene fatto. Quando questo succede, nell'empatico che cosa accade? Subentra lo stato d'ansia. Perché non mi ha visto? Non sono abbastanza? Non mi ama abbastanza? Avrà qualcun altro? Mi tradirà? E qui la persona che viene definita cattiva, ma in realtà la persona tossica per la vittima, perché è tossica per la vittima, non è tossica per la persona consapevole di sé, continuerà il suo gioco. Quindi non è che tu, che mi hai chiesto mille volte questa domanda, attrai narcisisti, attrai persone che si approfittano di te, attrai persone sbagliate per te. No! Quelle persone esistono a prescindere, esistono per quella che ero io prima, cioè te, e quella che sono oggi io, cioè la nuova versione di me. che con la consapevolezza di sé stessa, al primo meccanismo in cui la bilancia cade troppo a destra, rispetto che è dalla mia parte, mi incomincio a fare una domanda. Alla seconda volta che questo accade, incomincio a darmi già una risposta, e alla terza volta saluto l'interlocutore, e me ne vado, mi sposto, mi punto i piedi sul mio credo, sul mio essere, su me stessa. ecco perché la crescita personale è così importante quando si ha a che fare con più relazioni tossiche. Io per prima mi sono trovata nella vita, lo sapete perché l'ho già spiegato mille volte, ad avere ben tre relazioni tossiche, ed essere circondata da tantissimi amici, collaboratori, anche datori di lavoro, che avevano dei tratti fortemente narcisistici, o manipolatori. Non ero io che attraevo loro, ero io che rimanevo in quel contesto, che permettevo quel contesto, perché inconsapevole di me stessa, inconsapevole del mio valore, anche se il mio valore era palese, sia dal punto di vista professionale che personale, non ero consapevole di valere quanto sa di valere, che poi potrebbe essere anche troppo poco per qualcuno, questo è lecito, ma il mio valore è il mio valore, e non deve essere utilizzata una cartina a sottornasole di altre persone, perché io sappia di valere quel valore lì. Ecco perché tu ti trovi sempre in queste relazioni tossiche, perché non sai quanto vali, non sai quanto tu sei importante per la tua vita, perché non ti sei mai posto opposta davanti a uno specchio dicendoti ma io chi sono, senza aver bisogno del consenso degli altri. succede molto spesso. Il lavoro che svolgo io è fatto proprio per questo, per innalzare il livello dell'autostima, per ricostruire i nuovi obiettivi delle persone, per smettere di cadere in questo circolo vizioso, in questo loop, di bisogno di essere assecondati, visti, dalle persone sbagliate. La persona giusta non solo vi vedrà, ma farà di tutto perché voi vi sentiate visti. la persona giusta quando voi date un fiore, vi regala un fiore bello tanto quanto il vostro, non poco meno, magari poco di più e quando la volta dopo voi farete un gesto più plateale per lei, non se lo dimenticherà, magari non vi regalerà una pianta, ma regalerà l'affetto, il rispetto, vi darà altro, vi darà quello che lei è in grado di darvi. ma voi non vi sentirete a disagio, non vi sentirete in necessità di dover comprare un arsenale di piante per rendere l'altro consapevole di quanto voi valete. Non è cosa, è come fate le cose, non è cosa, ma è come le persone vi fanno sentire. Voi dovete ascoltare nel vostro profondo e essere consapevoli del vostro valore, prima di tutto per voi stessi e da voi stessi. Se non partite da qua, vi ritroverete sempre a cadere nello stesso circolo vizioso, ad avere bisogno di essere visti da persone tossiche e le persone tossiche appena vi vedranno faranno di tutto per usarvi e non amarvi. Perché ricordatevi che chi vi usa ha bisogno, chi vi usa ha bisogno e quindi chi ha bisogno non necessariamente e quasi mai ama. le persone che vi devono stare vicine non devono avere bisogno di stare con voi o di voi. Voi non dovete diventare un oggetto di bisogno, dovete essere un essere a voi stante amato nei vostri pregi e nei vostri difetti e con la crescita personale e col valore che vi date attraverso la vostra autostima e i vostri obiettivi futuri conoscerete sia i pregi che i difetti del vostro essere e permetterete ai vostri difetti di diventare pregi quando davanti a un amore vero questi difetti potrebbero essere un limite. Quindi mi raccomando amate voi stessi per primi e vedrete che quelle persone cattive intorno a voi smetteranno di paventarsi alla vostra vita. Ciao a tutti! Grazie!